Di nuovo buongiorno a tutte e tutti, benvenuti per coloro i quali sono qui in presenza in Cruy, un saluto anche a tutti coloro i quali sono collegati da remoto, mi dicono 166 persone collegate da remoto, quindi questa è una dimostrazione dell'interesse che ha suscitato questo incontro. Non è la prima volta che ci troviamo per parlare della misura 131, però oggi avremo la possibilità di entrare un po' più nelle questioni tecniche, perché finalmente stiamo arrivando all'implementazione di questa misura, l'analizzazione di quelle che saranno le API che ci permetteranno poi di condividere una serie di informazioni tra le università e con le università e i nostri principali stakeholder. Io oggi oltre che ringraziarvi per la presenza e ringraziare un po' tutto il gruppo di lavoro che ha contribuito ad arrivare oggi con una definizione credo abbastanza significativa ormai, ben consolidata di quello che è il lavoro da fare, quindi il Dipartimento della trasformazione digitale, i colleghi del Ministro dell'Università, tutto il gruppo ICT della Cruy, il CODAO, coesione rappresentante, insomma tutti coloro i quali hanno dato un contributo significativo per arrivare oggi dove siamo. Io vorrei lasciare un paio di messaggi, innanzitutto questo è un'occasione per riuscire a fare un'azione di sistema che possa coinvolgere davvero tutte le università e tutto il sistema dell'alta formazione, incluse le AFAM e credo che sia un esercizio sempre utile il fatto di riuscire a procedere tutti insieme definendo delle linee strategiche che tutti condividiamo come utili per il sistema universitario. In questo esercizio il fatto che magari organizzazioni più strutturate come le grandi università possano soffrire del supporto del gruppo ICT di Cruy e di Cruy stessa per riuscire ad arrivare a un comune risultato. C'è ancora un piccolo pezzetto che manca a questo puzzle che è rappresentato dalle università non statali, piccolo numericamente ma significativo chiaramente nel suo complesso, sul quale io rinnovo il fatto dell'attenzione. Sicuramente tutto quello che faremo sarà a disposizione di tutti, lo strumento che raggiungeremo probabilmente passerà attraverso degli strumenti di condivisione dei dati che già utilizziamo e sarà sicuramente accessibile alle università non statali, è aperto un tavolo dialogo con il Ministero e il Dipartimento della trasformazione digitale per individuare anche delle risorse di tipo economico che possono, speriamo, in qualche modo aiutare anche il sistema delle non statali ad entrare in questo percorso in modo ancora più importante. Dopodiché c'è una questione dove vogliamo andare, perché oggi parleremo di alcune API che sono significative ma che sono soltanto un pezzetto di un sistema. Un primo passo importante perché io ricordo a me e a tutti, le università sono tenuti ad entrare nel PDND e il bando 131 è un modo per poterlo fare in qualche modo, non dovendone sostenere i costi, ma in qualche modo facendosi aiutare. Quindi è un modo secondo me molto positivo di investire le risorse. Dopodiché dobbiamo cercare di fare un po' uno sforzo di proiezione, in che direzione vogliamo andare, che tipo di sviluppi vogliamo dare come sistema universitario alla evoluzione della condivisione dei dati per sfruttare al meglio quello che sarà la PDND, la piattaforma digitale nazionale dei dati, perché le università saranno degli alimentatori di questa piattaforma, ma saranno anche dei fruitori della stessa piattaforma. Tutti gli enti, dagli enti territoriali ai grandi enti, IMS, eccetera, sono tutti tenuti a fare la stessa operazione. Quindi il fatto di poter accedere a delle anagrafiche comuni, che quindi ci permettano di aggiornare automaticamente i dati anagrafici dei nostri studenti, piuttosto che i loro codici fiscali, saranno sicuramente delle azioni nelle quali potremo impegnarci e magari trovare gli strumenti anche economici già derivanti dal bando 131 per poterli finanziare. C'è una questione di trasparenza delle informazioni da parte delle università nei confronti degli stakeholder esterni. Penso agli obblighi di trasparenza di tutte le università e gli enti di alta formazione, dall'albo pretorio a tutta la documentazione che dobbiamo rendere accessibile oggi per lo più tramite i nostri siti internet e domani potrebbe essere resa accessibile anche questo attraverso la piattaforma digitale nazionale dati, la PDND. Io come impegno mio personale, in quanto rettore di un piccolo Ateneo a vocazione tecnologica però, e delegato della CRUI per le questioni legate anche alla transizione digitale, cercherò di portare la conferenza direttori e i delegati direttori alle questioni della transizione digitale a impostare una roadmap, una roadmap che innanzitutto deve essere condivisa nel sistema dell'alta formazione e poi deve essere condivisa con tutti gli altri attori che sono tutti seduti a questo tavolo, a cominciare dal Ministero fino all'Agenzia, fino al Dipartimento della Trasformazione Digitale, scusate, e condivisa la roadmap, a quel punto potremmo, secondo me, dare valore al gruppo di persone a cui sto per cedere la parola, che hanno lavorato di fatto fino ad oggi e che secondo me sono una risorsa per il sistema nazionale, perché abbiamo competenze e voglia di lavorare, in qualche modo di produrre dei risultati che secondo noi sono degli ingredienti essenziali poi per raggiungere i risultati di qualità e io vorrei non disperdere tutto questo sforzo che abbiamo fatto in questi ultimi sei, otto mesi e cercare di dare valore a un gruppo di persone che sicuramente potrà dare un ulteriore contributo allo sviluppo della transizione digitale del nostro sistema universitario. Io a questo punto proverei a rientrare nei tempi, nel senso che il mio intervento doveva finire a 45, per cui io non aggiungerei altro e oggi non penso che abbiate tutti avuto modo di vedere il programma, ci sono una serie di interventi programmati, il primo di questo sarà di Matteo Fortini che ha come titolo Piattaforma Digitale Nazionale Dati e Interoperabilità Semantica e quindi io vi ringrazio ancora per la presenza e passo la parola a Matteo Fortini, prego. Sì, grazie, buongiorno, sono Matteo Fortini del Dipartimento della Trasformazione Digitale, faccio parte del gruppo delle piattaforme e oggi andremo un po' più nel dettaglio in quella che è la piattaforma digitale nazionale dati, se ne è già parlato nel precedente incontro in maniera più ad alto livello, oggi andiamo un po' più nel dettaglio di quello che sono le caratteristiche anche tecniche. PDND ha una dichiarazione di valore che è di valorizzare il capitale informativo delle PA attraverso l'interoperabilità, quindi metterle in comunicazione ma prima di tutto evidenziarle, farle vedere, come si diceva prima, quindi rendersi conto di qual è questo patrimonio informativo, renderle interoperabili, quindi permettere che dialoghino fra di loro. L'obiettivo che abbiamo è offrire servizi pubblici semplici che realizzino il principio once only. Il principio once only è quello che dice che non dovremmo mai chiedere più di una volta un dato ai cittadini quando ce lo forniscono. Quindi PDND viene normata dall'articolo 50,2 del codice dell'amministrazione digitale, che dice appunto quello che ho detto prima, che la PDND è un'infrastruttura tecnologica, rende possibile l'interoperabilità delle vasi dati e lo fa attraverso la messa a disposizione di API, quindi l'interfaccia per la programmazione di applicazioni. Le interfacce vengono catalogate, questo è il tema dell'evidenziare le basi dati e le PA, i gestori di servizi e le società a controllo pubblico sono tenuti a accreditarsi alla piattaforma e assicurare l'interoperabilità con le basi dati, prima di tutto quelle di interesse nazionale, che sapete che sono parte di un altro articolo del CAD e sono gestite da Agit. C'è stato poi un decreto, perché il CAD diceva che gli obblighi e termini di accreditamento della piattaforma digitale nazionale dati sono decisi dal Ministero della trasformazione digitale all'epoca. In questo decreto si dice che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accreditarsi su PDND, erano tenute entro il 30 settembre 2023, i gestori di pubblici servizi entro il 31 marzo di quest'anno e le società a controllo pubblico entro il 30 settembre di quest'anno. Gli obblighi non escludono l'uso di altre piattaforme per l'interoperabilità, ma si deve comunque andare su PDND, quindi si possono continuare a utilizzare vecchi sistemi, ma si deve continuare a utilizzare PDND. Come sono descritte tecnicamente le comunicazioni attraverso le API? Da una parte abbiamo linee guida di interoperabilità tecnica e di sicurezza che chiamiamo in generale il modello di interoperabilità. L'Italia si è dotata, a differenza magari di altre nazioni europee, di linee guida che garantiscano l'interoperabilità e che l'interoperabilità sia a livello industriale, quindi sia moderno al passo con i tempi e quindi con l'obiettivo e non tanto la presunzione, ma con la convinzione che queste tecnologie siano quelle che utilizzano anche nell'industria e perciò non ci sia uno svantaggio a utilizzarle, a volte la burocrazia porta, si dice, aggrava magari il peso. No, in questo caso dovrebbe facilitare il nostro utilizzo perché utilizza metodi che sono ben utilizzati e ben consolidati. Si utilizzano le web API, quindi il dialogo viene fatto attraverso il web indistintamente, non si creano connessioni parallele su altri canali. Le API devono essere REST, si parlava di modernità, il SOAP esiste, è ammesso, ma è considerato residuale, è considerato superabile, quindi utilizzano quello che è un po' il protocollo HTTP con le proprie chiamate. La documentazione dell'API va realizzata attraverso la loro specifica OpenAPI o WISDOL nel caso di SOAP. la comunicazione viene attraverso un canale sicuro, ho detto che si passa per internet, chiaramente si passa attraverso internet, ma non si passa in chiaro, si passa attraverso un canale sicuro, cifrato, quindi le comunicazioni non possono essere lette da altre, da terzi, che non fanno parte della comunicazione, basato sul protocollo HTTPS che è un protocollo consolidato, è utilizzato per anche le transazioni naturalmente bancarie, insomma per qualunque tipo di transazione. L'autenticazione non è mutua, ma il certificato, come per tutti gli altri server che abbiamo sul web, che utilizziamo per navigare, è il server che si autentica al client attraverso il certificato, quindi non c'è uno scambio di certificati mutuo. lo dico è ammesso dalle linee guida, ma le linee guida a livello base, per applicare le linee guida e per garantire la sicurezza è sufficiente avere l'autenticazione solo dal lato server. Le linee guida PDND dicono che un soggetto si deve iscrivere alla piattaforma, abbiamo detto che i soggetti si scrivono alla piattaforma, ma l'iscrizione della piattaforma è un passaggio formale che viene fatto dal legale rappresentante dell'ente che deve firmare un accordo di adesione, la società incaricata della costruzione di PDND e della gestione di PDND è Pago PASPA e quindi Pago PASPA è il soggetto con il quale le pubbliche amministrazioni siglano l'accordo di adesione sulle piattaforme. Un soggetto può naturalmente essere erogatore di servizi pubblici, di servizi e-service o fruitore di e-service, a seconda di pubblicare un API o di contattarla. Naturalmente non sono esclusivi, un soggetto può essere erogatore in un caso e fruitore nell'altro all'interno della piattaforma. Quando si ha uno scambio di dati, il garante della privacy ha rivisto queste linee guida e le ha approvate, quando c'è uno scambio di dati, deve essere sempre fatta un'analisi del rischio da parte di chi riceve il dato. Dico da parte di chi riceve il dato perché in principio le linee guida PDND erano nate con un erogatore che fornisce dati a un fruitore, quindi era solo il fruitore a dover fare l'analisi del rischio per i dati. Si è configurata quella che si può chiamare, l'abbiamo chiamata erogazione inversa, che è semplicemente il fatto in cui io vado a trasmettere dei dati, quindi il fruitore contatta l'API, ma non per ricevere dati, ma per trasmettere, per fornire dati all'erogatore. In questo caso il trasferimento dei dati sta andando controcorrente in questo senso e quindi non è il fruitore che riceve il dato e che deve fare l'analisi del rischio, ma è l'erogatore dell'API che riceverà il dato. Per esempio ci sono IMS per i servizi sociali, per quelli che sono i dati dei servizi sociali, ha un API a cui gli enti trasmettono i dati dei servizi sociali, in questo caso è IMS che riceve il dato e quindi è IMS che deve in questo senso fare un'analisi del rischio. Il soggetto che pubblica un API deve definire alcune cose che sono registrate su piattaforma, deve definire le specifiche dell'API, dicevamo nel formato standard machine readable open API o WISDOL, gli attributi necessari per la fruizione, lo dirò dopo cosa sono gli attributi e il carico massimo che si aspetta per questi API. Il carico è chiaramente modulabile, però permette all'erogatore di dimensionare i propri servizi in modo da garantire un servizio di qualità e nel caso in cui il carico venga superato l'erogatore può decidere di ampliare i propri servizi e aumentare la possibilità di carico. Il fruitore richiede la fruizione degli service tramite PDND, quindi l'obiettivo è semplificare da una parte il riconoscimento di chi sono i soggetti, abbiamo detto che i soggetti aderiscono a PDND, in questo caso PDND fa da autenticazione dei soggetti e dice che il soggetto è autorizzato a operare su PDND. Dall'altra parte il fruitore deve chiedere una fruizione dell'API o degli service in cui vuole fruire, anche questo contratto di approvazione della fruizione viene registrato sulla piattaforma, quindi l'obiettivo è mai fare cose extra piattaforma, ma tutto quello che è sia l'erogazione che la specifica, che è l'adesione, che è l'autenticazione, che è l'autorizzazione ad accedere viene gestito direttamente sulla piattaforma che fa da garante anche di tutte queste documentazioni. La fruizione come avviene? Avviene attraverso voucher che sono forniti e firmati da PDND che hanno un ambito, dopo ne parlerò più in dettaglio, hanno un ambito e una durata limitati, quindi da una parte abbiamo detto che il server si autentica verso il client con il suo certificato, il certificato è una cosa che sappiamo che ha tutta una catena di trust che è… Quindi tra loro è stato… Fruittore invece, il fruitore si presenta all'erogatore con un voucher, questo voucher contiene delle informazioni che identificano il fruitore e che sono firmate da PDND, quindi di nuovo PDND sta facendo da garante. In tutto questo si vedrà anche dopo, l'altra cosa a cui abbiamo tenuto è che PDND non interviene mai nel flusso dati, quindi non lo vede proprio passare e in questo senso si parlava di analisi del rischio eccetera, PDND non deve fare nulla di questo perché non vede passare i dati. È possibile aggiungere altre informazioni firmate al fruitore con una chiave, è un token di audit di cui parlerò dopo e anche qui PDND fa da garante attraverso la memorizzazione di chiave. Gli attributi degli aderenti. Per aderire a un API ho detto che bisogna definire quali sono gli attributi di quelli che possono aderire. Gli attributi fanno da anticamera diciamo, cioè non si è ancora fruitori quando si ha gli attributi, cioè per dire io posso aprire un API soltanto ai comuni, soltanto alle università. Se io apro un API solo all'università, sono solo le università che possono potenzialmente richiedere la fruizione. Questo non vuol dire che hanno immediatamente la fruizione perché ci sono alcuni passaggi successivi, quello che dicevo prima, la produzione di analisi del rischio e se viene scelta dall'erogatore anche l'approvazione manuale da parte dell'erogatore della fruizione. Esiste, visto che stiamo cercando di semplificare le cose, nel PDND è stata inserita la possibilità di approvare automaticamente una richiesta di fruizione perché se un API deve essere fruita da tutte le università per esempio, adesso per esempio il Ministero dell'Interno per molte API di NPR ha messo l'approvazione automatica per i comuni o per tutte le pubbliche amministrazioni perché ha deciso che le verifiche di esistenza in vita non hanno bisogno di un'approvazione manuale anche perché diventava un numero molto grande. Come sono fatti questi attributi? Da una parte ci sono gli attributi certificati, quelli che ho detto fino adesso sono tutti attributi certificati, si prendono, PDND li prende da indice PA, il legale rappresentante si è registrato su PDND, PDND sa perché ente sta operando, indice PA dice questo ente che caratteristiche ha, è una pubblica amministrazione, è un comune, è un consorzio di comuni, è un'università, eccetera, è un ministero, eccetera. Questi attributi certificati vengono proposti direttamente da PDND, quindi il fruitore sa quali attributi certificati gli sono stati attribuiti, l'erogatore può andare a pescare gli attributi certificati da un elenco e decidere di segnalare che solo questi gruppi di enti possono entrare su PDND. Gli attributi verificati, abbiamo aggiunto altri due tipi di attributi, che sono quelli quando non ho un attributo certificato, cosa posso fare? Allora, quando non ho un attributo certificato, in alcuni casi sono stati creati nuovi registri, per esempio le assicurazioni hanno un registro che è stato fornito e viene fornito, aggiornato a pago PA su PDND, in modo che possa autenticare anche gli attributi certificati per le assicurazioni. In alternativa esistono attributi verificati, che sono attributi invece che possono essere chiesti dall'erogatore, l'erogatore dice io voglio che questo ente abbia questo attributo verificato e ci deve essere una terza parte che lo verifica, lo può verificare l'erogatore stesso, lo può verificare un altro erogatore di cui mi fido e quindi ottengo questo attributo nuovo. Gli ultimi attributi, quelli più generici, sono attributi dichiarati, che sono attributi che lo stesso fruitore va a dichiarare e che l'erogatore deve approvare, quindi sono un'ultima spiaggia nel caso in cui non siamo degli attributi né certificati né verificati per garantire la massima flessibilità. Chiaramente gli attributi certificati sono quelli più semplici da utilizzare all'interno della piattaforma perché sono garantiti dalla piattaforma e come dicevo l'erogatore sa già che il fruitore ha questi attributi in modo non in dubbio. Come funzionano i voucher e i token di audit? Dicevo che PDND funziona, autentica i soggetti che parlano su PDND attraverso la decisione di un accordo di adesione e la configurazione di ruoli all'interno della piattaforma dove ogni aderente può dare dei ruoli di amministratore, dei ruoli di operatore tecnico per fare alcune operazioni sulla piattaforma. Come fa invece ad autorizzare PDND, la fruizione dell'API? Autorizza appunto fornendo un voucher, questo voucher è un JWT, un token che va inserito all'interno dell'header della chiamata. Questo voucher è limitato, dicevo che ha un ambito limitato, è limitato al singolo fruitore, quindi il fruitore si presenta con un voucher che è dedicato a lui e quindi c'è il primo vincolo. Il secondo vincolo è limitato al singolo e-service, quindi se non ci sono i voucher non può essere speso su un altro e-service. Ha una durata limitata nel tempo che decide dall'erogatore, questo sempre per limitare l'ambito anche potenziale di attacco, perché il voucher, se un voucher dura 10 minuti, ogni 10 minuti io devo averne uno nuovo per poter operare. Lo dico qui, attenzione a questo particolare, perché chiaramente uno può anche chiedere, se un voucher dura un'ora può chiedere anche un voucher ogni minuto, ma diciamo che ne sta chiedendo un numero eccessivo. Succede a volte che nei sistemi, quando si vanno a configurare, si rischia di chiedere un voucher per ogni chiamata. L'idea del voucher è disintermediare PDND dal punto di vista del carico, nel senso che se un voucher dura un'ora, PDND viene potenzialmente interrogata due volte all'ora a dir molto. Dall'altra parte permette una durata limitata per decidere che se il voucher viene utilizzato, dovesse essere utilizzato in modo improprio, il tempo massimo di utilizzo di quel voucher non può essere più di tanto. PDND fa la verifica nel momento in cui viene chiesto il voucher che il fruitore sia autorizzato, che sia ancora dentro la piattaforma, cioè fa tutta una serie di verifiche per cui dice se è autorizzato a partecipare e viene firmato da PDND, quindi l'erogatore si trova un voucher firmato che contiene tutte queste informazioni. È stato aggiunto sul flusso, volendo un altro token che viene utilizzato nel caso in cui si debbano richiedere altre informazioni. Abbiamo detto che cerchiamo di mantenere tutto il più possibile all'interno di PDND. L'esempio è alcuni enti, per esempio l'anagrafe aveva bisogno di sapere alcune informazioni su quale fosse la postazione di contatto per la richiesta di alcuni dati. Questa informazione della postazione di contatto non può essere messa nella richiesta dell'API perché si tratta di informazioni che sono scollegate dall'API e quindi siccome hanno delle trattamenti diverse di privacy eccetera non vengono registrati all'interno del payload normale dell'API. però sono trasmesse attraverso sempre un altro header all'interno della chiamata. Sono in questo caso prodotte dal fruitore, sono incapsulate in un JSON di nuovo e sono firmate dal fruitore. Cosa fa PDND in questo caso? Tiene una lista di chiavi pubbliche valide dei fruitori. Perciò l'erogatore si vede arrivare una richiesta con dati aggiuntivi che sono firmati dal fruitore con una chiave privata la cui chiave pubblica l'erogatore può andare a verificare che sia proprio quella di quel fruitore attraverso PDND. Questo per permettere l'inserimento di dati che vengono firmati quindi hanno una garanzia maggiore anche dal punto di vista dell'opponibilità e che servono per alcuni usi in più. Ci tengo a dire, tanto per chiudere un po' il discorso sulle linee guida che le linee guida sono state pensate per essere estensibili quindi tutte queste cose che vi ho detto una parte facevano parte delle prime linee guida e poi con il confronto con gli enti sono state ampliate quindi sono state proprio create in modo da essere più flessibili possibile. Riassumendo, PDND pubblica le interfacce per le API sul catalogo di API permette di firmare gli accordi su interoperabilità permette di autenticare e autorizzare l'accesso alle API e valutare la conformità al quadro nazionale in materia di interoperabilità. Le API hanno delle norme, abbiamo detto delle linee guida esiste un validatore che permette di fare una prima scrematura degli possibili errori all'interno dell'open API che si viene a produrre o anche solo delle parti che mancano perché le linee guida specificano anche alcune parti dell'interfaccia come obbligatoria, per esempio la possibilità di avere uno status per interrogare le API per sapere se è attiva. La PDND vista in uno schema sintetico quindi ha, vedete qui al centro c'è PDND da una parte c'è un interrogatore che appunto fa adesione a onboarding e pubblica API il fruitore fa adesione a onboarding e richiede le fruizioni come dicevo erogatore e fruitore non sono necessariamente distinti potrebbe essere lo stesso ente che lavora da un lato e dall'altro il server dell'ente fruitore che vedete qui a destra deve fare una richiesta di autorizzazione a PDND ne ottiene un token e questo token lo può mandare attraverso la richiesta potenzialmente con un altro token di audit con dati aggiuntivi richiesti dall'erogatore al server dell'interrogatore il server dell'interrogatore fatte le opportune verifiche andrà a rispondere con questo poi si creano i processi per l'ente fruitore cioè i processi dell'ente fruitore dando dei servizi ai cittadini e alle imprese importante ho inserito qui perché a volte ci fanno questa domanda come faccio a implementare la fruizione di PDND come faccio a implementare l'erogazione ci sono due strade chiaramente o all'interno dei propri processi si implementano le procedure di autenticazione da un lato dell'erogatore e le procedure di richiesta dei voucher da parte del fruitore in altri casi abbiamo visto che vengono utilizzati per vari motivi anche di load balancing dei gateway e dei proxy quindi dei servizi intermedi che rendono trasparente il dialogo con PDND e permettono alle API di agire come se non avessero questa interfaccia di autenticazione nel mezzo e permettono quindi di produrre le API nel modo tradizionale e poi di aggiungere questo layer di sicurezza una parte che faccio notare ma l'avevo già detto PDND non interviene sul flusso dati quindi a questo punto di vista è esterna due numeri velocemente PDND è stata avviata a ottobre 2022 nel febbraio 2024 ci sono già quasi 6.000 enti attivi sulla piattaforma ci sono più di 4.000 API esposte sul catalogo chiaramente molte API sono prodotte dai comuni che hanno già avuto una misura i comuni sono numerosi chiaramente creano un certo numero di API ci sono però anche 58 API centrali all'interno dei PDND quindi ci sono iscritte a PDND non tutte pubblicano già servizi ma una buona parte sì e ci sono 69 privati che sono in questo caso intanto le assicurazioni che utilizzano per esempio le verifiche di esistenza in vita per alcuni loro casi è stato pubblicato l'avviso per l'università e le AFAM che ha scadenza tra in questo momento il primo marzo 2024 successivamente avremo la pubblicazione di un avviso per le ASL e poi di nuovo nuovi accordi di interoperabilità chi c'è su PDND di API centrali vediamo una lista di API centrali con cui abbiamo già interlocuzioni e con cui il Dipartimento ha anche siglato delle convenzioni degli accordi perché il Dipartimento è titolare dei fondi del PNRR dedicati alla erogazione di API e quindi può finanziare in questo senso come sapete l'erogazione di API e queste sono un po' tutte le PA centrali con cui abbiamo avuto contatti forse più interessante verrà detto anche dopo è che si parlava di interoperabilità PDND non è solo erogare noi stiamo parlando di erogare perché chiaramente come ho detto finanziamo l'erogazione di API ma PDND è interoperabilità nel momento in cui si è all'interno di questa piattaforma si possono andare a fruire le API che sono presenti per esempio verifiche codici fiscali consultazione di RISE già il domicilio digitale la residenza del cittadino la cittadinanza per tutti questi dati possono essere utilizzati per realizzare dei servizi al cittadino che appunto seguono il principio once only quindi non vadano a chiedere al cittadino più volte lo stesso dato quando è già in possesso della pubblica amministrazione chiudo con la parte invece che riguarda l'interoperabilità semantica le API per università e AFAM sono state sviluppate in parallelo a un'ontologia che è l'ontologia learning questo ha permesso anche di chiarire sempre di più quali sono i domini dei dati quali sono i concetti che vanno mappati e quindi di creare API anche con i concetti più già divisi in modo da poter essere più facilmente mappati su una semantica il nostro catalogo nazionale per la semantica dei dati schema GoVit è un altro progetto PNRR in cui ente di attuatore è Istat e qui il soggetto titolare è il dipartimento per la trasformazione digitale permette di sviluppare di supportare lo sviluppo di API semanticamente e sintaticamente interoperabili dando degli strumenti di ricerca e visualizzazione è un catalogo di semantica che parte da quello che era ontopia era il catalogo della semantica che è stato prodotto in Italia ma che è stato pensato in modo federato con la possibilità di collegare più risorse semantiche a partire da domini diversi quindi i titolari dei domini dei dati possono pubblicare sul catalogo la parte di asset di risorse semantiche che gli compete quindi ci sono vocabolari controllati ontologie, schemi dati ora ci sono già oltre 100 risorse semantiche e sono a servizio degli enti che scambiano dati attraverso PDND perché un dato oltre a essere interoperabile tecnicamente come è garantito dalle linee guida di interoperabilità lo può essere anche interoperabile semanticamente esempio veloce abbiamo a sinistra una delle API che è stata sviluppata che è FS02 l'API per avere la lista delle iscrizioni di uno studente o di una studentessa o l'ontologia mappa il fatto dell'iscrizione come enrollment e lo mappa come l'enrollment di uno studente in un istituto in un anno accademico in un corso con uno stato attivo terminato sospeso nella nostra API abbiamo questi concetti li possiamo andare a mappare sull'ontologia e successivamente due dati che provengono dai API diversi in questo caso ho fatto un esempio con un dato che proviene da un dato anagrafico codice fiscale nome cognome data rinascita con un altro dato che sviluppa invece le iscrizioni della stessa persona se io ho creato i dati in modo corretto in modo interoperabile anche semanticamente questi due dati il primo dato riguarda la parte sulle date della persona la seconda sui dati personali sui dati dell'iscrizione questi due dati si stanno parlando senza che io abbia detto in modo esplicito quali sono le cose in comune per questo lavoro facciamo una call to action diciamo vorremmo attivare un tavolo tecnico per l'interoperabilità semantica quindi mettere a disposizione migliorare se bisogna l'ontologia di learning e andare a mettere a disposizione sempre più strumenti per poter garantire l'interoperabilità semantica ultima cosa le API sapete che per l'università sono state definite come nove diverse API che sono state definite insieme con un lavoro collettivo molto importante e molto proficuo riguardano alcuni temi uno è l'offerta formativa degli enti la seconda le iscrizioni in corso quindi la consultazione la rettifica le variazioni delle iscrizioni il terzo i titoli di studio quindi consultazione rettifica variazione e variazioni quando dico variazioni servono per poter potenzialmente andare ad allineare un'altra banca dati quindi quali sono state le variazioni dall'ultima volta che ci siamo interrogati e l'ultime API sono le statistiche degli iscritti che permettono appunto anche di fare con le statistiche per esempio gli iscritti per fasce ESEE e gli iscritti a un corso non tutte gli enti devono sviluppare tutte queste API a seconda della dimensione dell'ente c'è un finanziamento diverso e anche un numero diverso di API da sviluppare il grosso vantaggio come si diceva di creare interfacce uguali per tutti è di uniformare quelle che sono l'esposizione di questi dati verso l'esterno anche a partire da basi dati che potrebbero essere potenzialmente diverse e sono definite in base ad alimentazione a vari richieste casi d'uso che sono l'alimentazione di ANIS del Gato ISDG del portale Univers Italy io ho terminato grazie se ci sono poi domande magari grazie io nell'invitare Fabrizio credo per l'anzini ad avvicinarsi non so se il prossimo intervento è a insomma quattro mani con Denis Marini non so se volete avvicinarvi entrambi così vi passate poi la parola in funzione dei vari pezzi della vostra presentazione io ringrazio Matteo Fortini per la sua presentazione rispetto alla questione delle domande ove ce ne fossero mi rivolgo a chi è collegato da remoto nel frattempo si è arrivati a oltre 200 persone collegate potete già da subito magari inserire la domanda nella chat in modo tale che poi ci sarà la sessione finale di domande e risposte cominciamo noi magari a fare una selezione anche sulla base dei temi che saranno sollecitati quindi passo la parola a Fabrizio Pedrancini per i conclui buongiorno a tutti e tutti grazie per l'efficace introduzione per aver spettato i tempi a Matteo allora il nostro compito a questo punto è quello di entrare un po' più nel merito rispetto al ah scusa pensavo si è già condiviso scusatemi vedete ok grazie allora dicevo vediamo di entrare più nel merito rispetto alle primitive che devono essere resi disponibili facciamo anche un breve epilogo rispetto ad alcune informazioni che sono legate alla partecipazione al bando e alcuni requisiti che lo caratterizzano allora la tempistica vi è nota sapete che c'è stato una proroga rispetto all'onboarding rispetto alla presentazione delle domande di partecipazione come si diceva nelle premesse ormai abbiamo una copertura molto ampia rispetto agli enti che avrebbero potuto partecipare le scadenze sono quelle che sono dettate dal bando stesso quindi prevediamo di arrivare al decreto di finanziamento per coloro che hanno fatto presentato la domanda entro il 26 gennaio finanziamento entro fine marzo con la contrattualizzazione entro giugno con la previsione di chiudere con l'implementazione entro dicembre è una roadmap piuttosto impegnativa tenendo conto del fatto che dobbiamo a questo punto procedere su un sistema complesso articolato che include Atene che hanno differenti regole di implementazione e differenti gestionali l'integrazione con le primitive vi ricordo soltanto il mapping di queste scadenze di questo calendario rispetto a quanto previsto dalla domanda che avete presentato la domanda riportava in calce una tempistica che è quella che riporto qui la prima data era quella di inserimento del cup e poi successivamente le date che abbiamo visto mi aspetto quindi che tutti coloro che sono nella condizione di aver presentato entro il 26 gennaio abbiano sul portale PA digitale 2026 che è la piattaforma che consente di gestire domande di finanziamento un workflow come quello mostrato qui ovvero avere le spunte di completamento delle attività relative a remissione della candidatura avere completato l'inserimento del cup ed essere a questo punto in attesa dell'emissione del decreto di finanziamento lo dico perché questo passaggio magari molto semplice sul piano operativo è però fondamentale sul piano formale per garantire che possa poi procedere correttamente il workflow relativo al bando per poter completare le attività e arrivare a derogare le primitive è necessario un passaggio di carattere formale che è quello di fare l'onboarding sulla piattaforma digitale nazionale dei dati io nella presentazione ho inserito direttamente il link alla piattaforma la verifica semplicemente per esplicitare che questa attività deve essere svolta dal singolo Ateneo è un'attività molto semplice alla parte relativa all'onboarding sul sito Pago.pia in particolare sulla parte pd trovate tutte le informazioni che sono necessarie per questo l'output di questo onboarding è un documento a firma del rettore rappresentante legale che porta a dire che siete on board sulla piattaforma ovvero siete in condizioni di esporre o invocare dei servizi questo è un passaggio fondamentale per ottenere cosa per arrivare al passaggio finale che è indicato anche nel bando ovvero ho implementato le mie API cosa faccio le espongo sulla piattaforma pdnd pd test e poi lo espongo sulla piattaforma di produzione il bando ma poi la documentazione dettagliano come sono i passaggi tecnici in questo momento questo non ci interessa riporto lo riporto in rosso perché è il passaggio finale che permette di dire ho fatto tutto quello che dovevo come andranno poi a verificarsi queste condizioni si andrà a verificare che le API possono essere correttamente invocate tramite la pdnd quindi questa frase quella che c'è sul bando è che dice quale controllo verrà implementato questo è il passaggio perché si possa dire ho fatto quello che dovevi quindi possiamo procedere all'erogazione del finanziamento che ricordo è un finanziamento e corpo non legato alla consultivazione di attività specifiche quindi nel modale di gestione del finanziamento anche semplificata assimilabile a quella che abbiamo già visto per altre iniziative pensiamo alla PIO pensiamo alla parte pago PA piuttosto che specie tecnicamente come avverrà l'erogazione dei servizi abbiamo visto prima che l'interazione fra gli enti e pdnd avverrà con il protocollo che ha descritto anche in termini di dettaglio prima Matteo questo ci permette di capire quale scambio di forzioni ci deve essere prima si diceva in alcune situazioni ci potrebbe essere un layer intermedio che disaccoppia l'ente rispetto alla pdnd questo è quello che capita capiterà tipicamente per gli atenei che sono su piattaforma gestionale cineca quindi che hanno s3 per intenderci che tramite un layer denominato API manager cineca renderà disponibile e che disaccoppia le istanze dei gestionali dei singoli atenei rispetto all'interazione con pdnd questo layer questo API manager potrà essere utilizzato liberamente da atenei che vogliono che pur non essendo su cineca con il gestionale quindi pur non avendo s3 vogliono utilizzare quello con il layer di disaccoppiamento quindi non vogliono stare ad implementare direttamente protocollo di interazione con pdnd oppure l'ateneo può direttamente esporre su pdnd le primitive direttamente tramite un proprio API manager diciamo che atenei che sono strutturati che già espongono primitive hanno magari al loro interno una gestione di disposizione tramite un proprio API manager questa figura fa capire che c'è la massima libertà di configurazione e poi i colleghi di cineca vi racconteranno più in dettaglio quali sono le opzioni quali sono i vantaggi dell'eventuale uso di questo di questo layer detto questo vorrei prendere un attimo il tema che aveva sollevato prima correttamente Matteo per precisare che ci sono alcuni aspetti del bando che sono obbligatori cioè l'esposizione di quell'API è obbligatoria per poter far funzionare il sistema nell'ottica che abbiamo descritto e per accedere al finanziamento però c'è un passaggio ulteriore che non è obbligatorio ma che è opportuno che è quello di fare in modo che le informazioni che noi passiamo siano arricchite anche di una componente diciamo semantica da questo punto di vista abbiamo visto prima anche in una slide di Matteo ciò che è obbligatorio per il bando può essere complementato con una valorizzazione semantica e riguardo a questo potete trovare sui link che sono descritti qui tutte le formazioni relative per esempio all'oringontology che in parte è già sviluppata da quella che abbiamo visto prima in una slide ma in realtà richiederà una collaborazione con il gruppo di lavoro con voi per essere correttamente arricchita e completata vi rendete conto del fatto che riuscire a completare i dati di un layer semantico permette di migliorare le interoperabilità e di garantire che abbiano un significato al di là del valore testuale che è associato al singolo campo del formato JSON che viene passato questo vale come premessa adesso vediamo un po' di entrare nel merito dei servizi prima abbiamo visto nell'ultimo slide di Matteo una classificazione per tipologia in realtà per come sono costruiti i servizi nel bando 131 sono pensati per macro casi d'uso questo non vuole dire che quei servizi siano erogabili solo in quel contesto però sono nati pensando al fatto che il fruttore potesse essere uno specifico per esempio gli service che riguardano Universitaly sono quelli dell'API IFS 01 questo contesto è legato come dicevo all'offerta formativa ovvero all'insieme dei corsi dei dettagli relativi ai corsi che sono erogati da un certo teneo in un certo un accademico va detto che le informazioni di dettaglio riferite a questi questi services sono dettagliatamente descritte su un piano tecnico e anche di documentazione che descrive il significato dei campi i vari casi d'uso e eventualmente la gestione delle connessioni d'errore sul github che è stato attivato allora un po' di caricare la pagina ok ce l'abbiamo fatta allora il github è quello ufficiale del progetto sul github trovate un documento scusate eccolo qui c'è un documento generale che riporta la descrizione dell'epi con tutta una serie di informazioni di carattere generale sulle assunzioni che sono fatte su come procedere all'implementazione eccetera poi Dennis Marini potrà tagliare maggiormente questo qui ci sono tutti i collegamenti ai dettagli riferiti ai singoli servizi allora nel caso specifico il servizio quello che stavamo guardando prima quello relativo a lista dei corsi di studio si aspetta di ricevere in ingresso un anno accademico e restituisce l'elenco dei corsi allora il lavoro che abbiamo fatto come gruppo di lavoro è stato quello di partire dalle primitive definite dal bando 1-3-1 che erano di fatto vincolanti rispetto al dominio delle possibili implementazioni e entrare nel merito per individuare un insieme di attributi ritenuti significativi rispetto al caso d'uso e ritenuti significativi rispetto ai processi amministrativi in essere negli Atenei le informazioni che trovate qui sono informazioni che rispetto agli attributi rimappano una semantica condivisa fra i vari Atenei e AFAM qui ne vedete un esempio quindi per ciascun corso di studi attivo in quell'anno accademico quello specificato in input sono riportate queste informazioni l'elenco potrebbe essere lungo e di conseguenza la primitiva in realtà rende anche un'informazione aggiuntiva che è un cursore e tramite questo cursore è possibile fare una successiva request indicando che deve essere passato un altro insieme di informazioni legate a quella richiesta questo permette di popolare l'elenco dei corsi c'è una successiva primitiva che permette di avere informazioni di maggiore dettaglio quindi io a partire dal codice corso preso dall'elenco del servizio precedente cosa posso ottenere posso ottenere tutti i dettagli notate che i dettagli riportano intestata l'elenco delle informazioni del corso e poi riportano il dettaglio dei curriculum che possono rimappare su indirizzi orientamenti percorsi che caratterizzano l'articolazione dell'offerta formativa di quel corso da parte dell'Ateneo e qui vedete all'interno di questo percorso l'articolazione negli item quindi negli insegnamenti che sono offerti quindi tramite questi due services è possibile recuperare informazioni sull'offerta complessiva in un certo un accademico più i dettagli riferiti a ciascuno di quei percorsi questo copre complessivamente il caso d'uso universitale vedete che sono delle informazioni di carattere generale che possono essere utilizzate void universitale void eventuali servizi che dovessero averne bisogno per raccogliere indicazioni di carattere generale sono informazioni pubbliche già rese disponibili ai siti degli Atenei per fare qualche rendere disponibili ulteriori servizi riferiti all'offerta complessiva disponibile sul panorama italiano l'altro gruppo di servizi è molto importante perché è relativo al soddisfacimento dell'alimentazione dell'angra nazionale superiori che è stata istituita con uno specifico mando con il suo decreto qualche anno fa l'implementazione di questa con riferimento ai dati che sono caratterizzanti ANIS è quella dei servizi che vedremo fra poco ANIS di per sé non contiene informazioni particolarmente articolate sono quelle che vedete qui queste sono tutte e solo le informazioni che stanno in ANIS quelle che riguardano l'iscrizione e quelle che riguardano i titoli ANIS permette la consultazione da parte del singolo cittadino che può vedere quali sono le informazioni che risultano con riferimento alle proprie iscrizioni degli ultimi tre anni e quali sono i titoli conseguiti rispetto alla profondità dei titoli che sono censiti in questo momento sono gli ultimi dieci anni se non sbaglio poi è da valutare come potrà essere esteso andando a ricomprendere anche altre informazioni ANIS permette al cittadino di ottenere un'attestazione riferita a questo status di iscrizione piuttosto di titolo conseguito quali sono i servizi che all'interno delle API rimappano l'alimentazione di ANIS sono due una riguarda l'acquisizione delle informazioni sulle iscrizioni l'altra riferita ai titoli ne vediamo uno quella sui titoli che è quella più ricca quella relativa ai titoli di fatto chiede con riferimento ad un certo codice fiscale di uno studente di uno studentessa o con riferimento all'ID di ANPR diciamo in questo momento quello non è gestito ma in prospettiva quello sarà la chiave di collegamento con le persone cosa sarà possibile fare? Sarà possibile ottenere queste informazioni ovvero sapere che quella persona con il codice fiscale o con la persona ID ha ottenuto un certo titolo con la denominazione corrispondente il voto conseguito eccetera queste sono le informazioni come abbiamo visto si rimappano direttamente su quelle perviste dal decreto per quanto riguarda la parte di ANIS va detto che su questo abbiamo speso un po' di tempo sul gruppo di lavoro il ciclo di vita di un'iscrizione di uno studente ad un anno accademico non ha come dire uno stato on off in realtà può essere un po' più articolato ora quello che accade è che all'interno degli atenei la gestione amministrativa può essere un po' differenziata abbiamo cercato di semplificare questo ciclo di vita limitandoci agli stati che sono essenziali di fatto quindi immaginiamo che lo studente quando si immatricola o quando versa la prima rata per gli anni successivi porta la sua iscrizione in uno stato di on poi cosa può capitare che durante la sua carriera accade qualcosa per esempio non paga le tasse c'è un provvedimento disciplinare allora a questo punto quell'iscrizione può finire in uno stato come dire di pausa di attesa nel senso che lui risulta iscritto a quell'anno accademico ma non può fare nulla perché è messo in uno stato di sospensione ora cosa non può fare dipende da quello che decide l'Ateneo l'Ateneo potrebbe decidere non fai gli esami non ti iscrivi agli esami non puoi seguire i corsi piuttosto che non puoi svolgere altre attività è lasciata flessibilità rispetto a questo quindi se l'Ateneo ritiene opportuno notificare il fatto di aver messo in pausa quell'iscrizione lo può fare tramite questo passaggio quando finisce la sospensione l'iscrizione torna attiva torna on finché quando lo studente arriva a chiudere la carriera per conseguimento del titolo piuttosto che per decadenza o abbandono va in uno stato di disattiva di off questo a cosa porta lato ANIS al fatto che se l'iscrizione è on io quell'informazione che ho ottenuto tramite quelle primitive le mostro ovvero quell'iscrizione è visibile ed è attestabile nel momento in cui l'Ateneo mi ha detto questa iscrizione c'è ma lo studente è in stato di attesa di pausa a questo punto io posso mostrarla marcata opportunamente e posso non attestare l'iscrizione perché in questo momento non può svolgere delle attività nel momento in cui mi arriva la notifica che l'iscrizione si è conclusa ANIS può storicizzarla la mette da parte ma non mostra più lo stato di iscrizione perché ovviamente a quel punto la carriera si è conclusa questo a cosa porta come si riflette rispetto ai servizi lo vediamo qui vedete che nella parte relativa alla risposta relativa all'iscrizione c'è un campo che si chiama status quindi questo stato rimappa il fatto che l'ateneo abbia detto questa iscrizione di quello studente è attiva piuttosto che sospesa abbiamo fatto un po' di fatica per riuscire a trovare un punto di vista comune rispetto alle gestioni dei vari atenei questo garantisce una flessibilità perché permette a ciascuno di gestire in modo flessibile questa messa in pausa dell'iscrizione l'alimentazione di ANIS di per sé però non si limita alla lettura di iscrizione ai titoli perché l'idea è che il cittadino possa tramite ANIS vedere qual è lo stato complessivo delle sue iscrizioni e dei suoi titoli vi ricordo che al momento sotto determinate condizioni è possibile anche l'iscrizione multipla contemporanea per corsi formativi e quindi ci potrebbe essere lato ANIS la collezione di iscrizione che provengono da diversi ateneino allora si è detto facciamo in modo che il cittadino possa segnalare eventuali anomalie ci possono essere casi nei quali per qualche motivo l'informazione che è arrivata su ANIS non è aggiornata non è corretta o comunque si ritiene che non sia tale e a questo punto ci sono delle funzionalità degli service che sono resi disponibili per permettere al cittadino di segnalare queste anomalie allora vi segnalo una cosa e la sottolineo cioè mentre gli altri servizi sono servizi di pura lettura cioè io lato PDND ingaggio l'ateneo per leggere delle informazioni questi sono servizi che invece vanno a scrivere qualcosa ma non solo fanno l'ipotesi che lato lato ATeneo lato AFAM nel momento in cui mi arriva una segnalazione accada qualcosa quindi va implementato un workflow di gestione quindi come funziona la primitiva richiesta di rettifica è una primitiva che è fatta così in pratica il il cittadino che ha questo tax code o queste persone di compila una forma su Anis e indica quali sono le cose che secondo lui non sono corrette potrebbero riguardare il voto la data il corso di studi la denominazione e quindi il JSON che arriva associato a questa a questa invocazione contiene in forma strutturata queste informazioni che però sono descritte nei campi di test in modo non strutturato a questo punto che cosa accade che il l'Ateneo riceve questa richiesta che è nello stato da gestire e deve far avanzare il workflow corrispondente tant'è che il cittadino può sempre tramite Anis dire ma a che punto è questa richiesta notate che quando il cittadino compila la forma e Anis tramite il PDND fa arrivare la richiesta all'Ateneo e l'Ateneo rende un identificativo un handler di quella richiesta e questo handler è quello che viene passato poi per dire ma questa pratica a che punto è allora capite che a questo punto a discrezione dell'Ateneo con la flessibilità che possiamo immaginarci l'Ateneo si trova con una, due, dieci segnalazioni e deve fare in modo che vengano correttamente smistate e gestite possono essere segnalazioni che riguardano corsi di primo livello magistrale master dottore vanno smistate all'interno ci deve essere un meccanismo interno dell'Ateneo che è fuori rispetto al perimetro del bando 1-3-1 perché il bando 1-3-1 si limita a dire devi recepire queste informazioni e portarle nel tuo sistema dopo di che il lato Ateneo o AFAM sarà necessario gestirla e dire l'ho chiusa con questo esito tipo il dato non era aggiornato ma adesso è a posto piuttosto che l'ho rettificato piuttosto che è corretto così si è pensato per coprire complessivamente le varie tipologie di anomalie che possono verificarsi di aggiungere un ulteriore servizio che è l'F044 che permette di inviare una segnalazione che non è legata al fatto che il singolo cittadino segnala qualcosa che non va ma nell'interazione come dire sistemistica fra l'invocatore del servizio sulla PDND e l'Ateneo l'invocatore dice c'è qualcosa che non torna perché non sono riuscito a il valore relativo a questo campo che dovrebbe ritrovare un riscontro in un dominio che è definito quindi in un dizionario controllato non è corretto quindi questo JSON questa informazione strutturata rimappa questa segnalazione che arriva su questa non c'è una gestione di un ciclo di vita viene da pensare che probabilmente nel momento in cui vado ad implementare la raccolta delle segnalazioni metterò insieme le segnalazioni degli studenti che hanno un ciclo di vita andrò a gestire anche queste e probabilmente per uso interno andrò a tracciare come queste evolvono però su questo è lasciata libertà all'Ateneo notate che questa come dire tabella delle segnalazioni è appunto il disaccoppiamento fra i gestionali interni e il mondo l'interazione con PDND e con ANIS riferita a questi contesti lo segnalo perché effettivamente questo è un punto aggiuntivo rispetto allo sviluppo delle primitive che per la prima volta rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora va a toccare dei processi interni perché non va solo a leggere ma si aspetta che accada qualcosa in Ateneo come accade è lasciata la libertà dell'Ateneo implementarlo anche in termini organizzativi di smistamento però è una cosa che va fatta ci siamo poi occupati dal punto di vista tecnico di un tema che riguarda il ma come facciamo a procedere all'aggiornamento dell'iscrizione dei titoli sapendo che in Ateneo ci sono decine di migliaia di studenti e quindi non vogliamo ogni volta stare a ripassarci tutto e non vogliamo stare a gestire meccanismi complessi di comunicazione dei delta fra una invocazione e l'altra allora ci abbiamo ragionato e abbiamo cercato di implementare una soluzione che metta insieme una certa efficienza nell'invocazione e una garanzia del fatto che passi il set minimo di informazioni necessarie per implementare quel servizio allora il servizio permette di acquisire informazioni che consentano all'invocatore quindi a Danis di capire cosa è cambiato però l'idea è io non ti passo solo il delta io ti passo tutto ma cerco di passarti un tutto che ti consenta di calcolare il delta in base a quello che tu avevi e devo fare in modo che non sia troppo corposo troppo pesante in termini di dati e quindi l'idea che abbiamo avuto è quella di dire nell'invocazione io chiedo all'istituto quindi all'ateneo dimmi qual è l'elenco delle iscrizioni o dei titoli e la risposta come è fatta la risposta comprende un vettore composto per ciascuno studente da una chiave e un hash la logica qual è è quella di dire io quando mi viene chiesto di avere l'elenco il vettore dell'iscrizione o dei titoli faccio questo lavoro come chiave non ti passo per motivi di privacy il codice fiscale ma un hash del codice fiscale e poi vado a calcolare l'impronta quindi un hash delle informazioni che ti avrei passato ora a questo punto l'invocatore prende questo vettore e la prima volta se lo mette da parte all'invocazione successiva va a fare un confronto e dice per queste chiavi è cambiato l'hash cioè per questo studente è cambiato qualcosa quindi può velocemente capire quali sono tutti e solo gli studenti per il quale deve essere invocata la richiesta di aggiornamento quindi avendo queste informazioni ANIS riceve il vettore chiave che identifica lo studente hash quindi il riassunto delle informazioni che sono associate e può dire io per ciascuno vado a chiedere il dettaglio quindi i servizi che abbiamo visto prima che sono quelli che dicono dimmi i titoli dimmi le iscrizioni vengono invocati in quel caso utilizzando l'abbiamo visto prima scusate ve lo faccio vedere qui però il link da questa parte ecco sulla request è possibile chiedere di avere il dato relativo all'iscrizione o al titolo di studio non passando il codice fiscale ma usando la key quella key qual è è quella che ho ricevuto nel vettore delle coppie chiave e riassunto delle informazioni associate l'insieme di questi servizi ci consente di garantire efficienza da un lato dall'altro rispetto della privacy perché facciamo passare tutte e sole le informazioni che sono strettamente necessarie questo chiude l'insieme dei servizi degli e-service che riguardano la parte relativa ad Anis poi c'è un altro blocco che è quello che riguarda il single digital gateway ora due parole giusto per ricordarci di cosa stiamo parlando allora single digital gateway è un'iniziativa europea che ha l'obiettivo di dire tutti i cittadini europei quando hanno bisogno di recuperare informazioni dal proprio ente d'appartenenza perché devono attivare una procedura magari in un paese della comunità europea non devono portarsi dietro le informazioni l'infrastruttura permette loro di far sì che la pia la quale stanno rivolgendo straniera possa recuperare tramite single digital gateway le informazioni che servono questo ovviamente nell'ottica one solely cioè devo fare in modo che non vengono richieste più volte le informazioni in questo caso specifico al cittadino l'infrastruttura di single digital gateway si basa ovviamente lato italiano su pdnd e sul collegamento single digital gateway il meccanismo generale qual è? immaginiamo lo studente italiano che vuole andare a seguire la magistrale ad Haken allora va all'ateneo straniero e dice mi voglio immatricolare e quelli dicono sì ma qual è il tuo titolo di studio? ecco il meccanismo è questo l'ateneo dello stato membro 1 tramite l'evidence broker quindi l'evidence broker è quello che permette di andare a recuperare le evidence le prove legate a quello studente l'evidence broker europeo smista sull'evidence broker italiano il quale smista a sua volta tramite pdnd sull'ateneo di appartenenza il quale risponde dicendo questo studente ha conseguito la laurea informatica presso statale di Milano ecco capite che questo meccanismo di cooperazione complessiva che noi vediamo applicato a questo contesto a validità molto generale permette al cittadino di far recuperare all'enta al quale si sta rivolgendo in autonomia tutte le informazioni che servono vi risparmi il dettaglio tecnico immaginate quanto è complessa l'architettura che sta sotto perché riuscire a fare in modo che l'ateneo di H riesca a recuperare attraversando i vari strati l'informazione dell'ateneo stale di Milano è una bella sfida sul piano tecnologico dell'architettura in realtà SDG si rivolge ai cittadini e in generale ai procedimenti amministrativi quindi ci possono essere quelli che guardano l'anagrafica la richiesta di un permesso per costruire piuttosto che l'immatricolazione nell'ambito studio SDG fa riferimento in particolare a questi temi domande di finanziamento degli studi domande di amministrazione riconoscimento accademico l'Italia ha partecipato sta partecipando al tavolo europeo per andare a capire quali sono con riferimento a questi processi le informazioni da gestire in particolare la parte del bando 131 che riguarda SDG si riferisce a questi a questi e services non li stiamo a guardare tutti direi che sono chiari in termini di iscrizione hanno a che fare con il fatto che io SDG porti come informazioni lo stato di iscrizione di ammissione a un percorso formativo piuttosto che il titolo che ha conseguito sono diciamo tendenzialmente consolidati questi servizi l'unico sul quale abbiamo ancora un po' di margine di sviluppo perché stiamo ancora chiarendo nel contesto europeo e quello che riguarda l'IF 0205 ovvero l'informazione relativa a ciò che lo studente ha fatto al di fuori del proprio Ateneo tipicamente un progetto di scambio internazionale ma anche nazionale nel caso in cui ci fosse e quindi il fatto che venga tramite quel servizio fatto uno zoom su quello che lui ha fatto esternamente al perimetro del proprio Ateneo su questo si sta ancora un po' lavorando perché voi capite che la parte di scambio internazionale ha un suo ciclo di vita piuttosto articolato che si rimappa a livello di sistema su Erasmus e Fout Paper per citare la parte internazionale che ha tutto un tema di learning agreement di transferitor record rispetto a quello che è il ritorno su questo si sta ancora facendo un approfondimento quello che può essere più interessante da vedere è l'ultimo l'IF 0304 che riguarda il diploma supplement allora qui abbiamo fatto un lavoro approfondito per rimappare correttamente quelle informazioni sullo standard di diploma supplement ovviamente questo è un servizio che riceve in ingresso come chiave il codice fiscale piuttosto che l'ID person e come risposta che cosa riporta riporta le informazioni di dettaglio riferite al titolo conseguito e agli esami sostenuti quindi qui vedete il dettaglio degli insegnamenti del valore in CFU e del voto qui è riportato non è un dato particolarmente rilevante però era previsto nello standard quindi l'abbiamo acquisito il periodo di erogazione che puramente è convenzionale nel senso che non serve sapere che ha cominciato il corso il 7 di ottobre piuttosto che il 25 può essere utile giusto per sapere se era un corso annuale o semestrale però era un'informazione che era prevista e quindi è stata rimappata nello schema vi mostro questo che è un dettaglio che spiega come abbiamo lavorato ovvero a partire dal minimum information set definito al tavolo con i colleghi europei è stato rimappato questo insieme di informazioni sulle corrispondenti informazioni disponibili nei gestionali degli Atenei in generale il diploma supplement prevede delle sezioni opzionali per cui spesso gli Atenei vanno a integrarlo con altre informazioni il fatto che lo studente abbia comunque ottenuto dell'attestazione per attività extracurriculari penso che abbia partecipato come rappresentante in consiglio di amministrazione e senato diciamo che qui c'è il set minimo concordato con i partner europei è stato quindi un po' laborioso riuscire ad effettuare questo mapping e peraltro questo ha anche una corrispondenza rispetto ai domini di valori corrispondenti e anche per quanto riguarda la parte di semantica un ultimo insieme di servizi sono quelli che sono resi disponibili diciamo per la pubblica amministrazione sono informazioni di carattere statistico ve ne mostro uno riguardano la distribuzione degli studenti nei corsi di studio per un certo uno accademico quello più articolato è quello che riguarda magari l'articolazione per fasce ISEE che può essere utile parliamo di dati che non sono personali dati aggregati l'idea è con riferimento a uno scaglionamento che è definito a titolo d'esempio così poi sarà da consolidare diamo delle indicazioni rispetto all'ISEE dello studente in quel particolare uno accademico e con riferimento alla collocazione in queste classi bisogna ancora come dire secondo me lavorarci un attimo per capire in relazione ai casi d'uso quale può essere la migliore articolazione corrispondente chiuderei con alcune considerazioni mi rilascio a quello che abbiamo visto prima sulla parte PDND riferite alle occasioni che noi abbiamo di mettere a frutto questi servizi allora prima Matteo ha fatto vedere questa slide che è molto interessante perché ci mostra come sull'ecosistema di PDND siano disponibili informazioni che in termini generali possono essere molto utili nello scambio tra enti della pubblica amministrazione ma anche fra altre realtà che operano in generale sul mercato e nel contesto della gestione delle funzioni dei cittadini prima abbiamo visto che per esempio nell'ambito del comparto universitario AFAM potrebbero essere interessanti cooperazioni che vanno a leggere informazioni riferite a per esempio all'ISEE verificare il codice fiscale consultare il domicilio digitale verificare la residenza dobbiamo a questo punto capire con riferimento ai processi amministrativi quali potrebbero essere le occasioni d'uso di queste informazioni vi cito un esempio molto semplice noi non abbiamo in questo momento indicazioni sullo stato in vita in generale degli utenti che noi abbiamo in realtà a noi serve sapere questa informazione attendibile perché dobbiamo essere in condizione di chiudere i servizi per motivi legati al trattamento a dati personali tenere attive delle credenziali delle utenze che in realtà sono riferite a persone che non sono più in vita può essere un problema è un'informazione che noi non abbiamo direttamente però che potremmo acquisire interagendo per esempio con NPR questo è un caso particolare ci sono ovviamente tanti altri però mi preme segnalare il fatto che fra i servizi che abbiamo descritto prima ce n'è uno che in particolare ci potrebbe essere utile mi riferisco alle service quello che abbiamo visto gli F0304 quindi quello che riguarda diploma supplement perché quello riporta dato un codice fiscale o ogni DNPR i dettagli riferiti al titolo che ha conseguito e i dettagli riferiti agli esami che lui ha sostenuto ora questa informazione ovviamente è molto utile nel momento in cui un Ateneo deve per esempio considerare l'ammissione di uno studente per un corso di magistrale allora invece di attivare meccanismi che prevedono che lo studente porti delle attestazioni oppure delle cooperazioni puntuali fra gli Atenei PDND permette tramite questo servizio agli Atenei di recuperare quell'informazione direttamente ora quando siamo visti l'incontro precedente il ministero aveva sottolineato l'importanza di queste informazioni ci terrei a ricordare un aspetto che che forse riguarda più una prospettiva storica di quello che è accaduto allora nel 2012 i colleghi lo ricorderanno con un intervento che deriva anche da un gruppo di lavoro quello che era ICT4 University congiunto Atenei e Ministero siamo arrivati a dare una spinta di integrazione perché si è detto con questo articolo di questa legge facciamo in modo che si possa accelerare il processo di integrazione dei sistemi informativi con il fascicolo elettronico dello studente quindi mettiamo insieme le informazioni dando uno standard rispetto all'articolazione di quelle informazioni e quelle sono quelle che sono gestite all'interno dei singoli sistemi degli Atenei però l'idea era questo fascicolo articolato in un certo modo può essere utilizzato per supportare la mobilità nazionale la mobilità internazionale e questo da cosa è alimentato dall'anarchia nazionale degli studenti perché all'epoca c'era solo quella e l'idea però in nuce era facciamo in modo che gli Atenei possano accedere ad ANS per supportare questi processi ora nel corso degli anni abbiamo provato più volte ad estendere quei servizi ma non siamo mai riusciti per n motivi ad andare oltre il dato legato al titolo cioè l'informazione legata a quali sono gli insegnamenti che mi serve per capire se per esempio nella missione la magistrale devo compensare in qualche modo il percorso formativo con ingredienti aggiuntivi che non sono presenti nel percorso precedente è un'informazione che non abbiamo mai avuto a disposizione da ANS notate che già nel nel 2012 si diceva la cooperazione può riguardare anche altre informazioni per esempio si faceva riferimento all'Inps quindi dieci anni fa c'era l'impostazione che andava in quella direzione faccio un ulteriore passaggio il piano triennale Agid del 17-19 riportava questo è uno stralcio che riporto qui riportava l'idea di costruire degli ecosistemi ecosistemi che sono l'insieme degli enti che collaborano fra loro per supportare un ambito specifico e notate quello che c'è scritto ogni ecosistema cosa deve fare deve garantire di avere delle basi dati che sono struttate in modo comune e supportare delle regole trasparenti per l'accesso piattaforme militanti che devono essere quelle di fondamento per supportare gli scambi esporre i servizi tramite API siamo arrivati adesso a questo punto ad implementarlo quindi gli ecosistemi che erano presenti nel 2017-19 erano quelli che sono elencati qui questo assomiglia un po' a quello che abbiamo visto prima nel senso che noi stiamo ragionando sull'ecosistema istruzione superiore ricerca che ovviamente nel disegno del 2017 è una relazione con gli altri ecco fa piacere dire che questo percorso dal 2017 ancora prima dal 2012 è arrivato a compimento adesso con l'ecosistema complessivo che ci permette di sfruttare meglio questa collaborazione questa cooperazione tra le basi dati che abbiamo a disposizione può aggiungere qualcosa Dennis rispetto a no ringraziamo Fabrizio per la sua presentazione grazie cioè poi certo Dennis se vuoi prendere la parola per integrare grazie una delle delle questioni però sarà sempre continuare a lavorare perché i dati di Hans siano sempre più facilmente interoperabili quella sarebbe un obiettivo utile per tutto il sistema e vai su link di nuovo buongiorno a tutti sono Dennis Marini del dipartimento della trasformazione digitale da due anni e ho partecipato a questo tavolo per la definizione delle specifiche OpenAPI con CODAO MUR CRUI e niente io grazie Battizio che ha spiegato molto bene l'API in dettaglio e Matteo per quel che riguarda tutta la parte di FIDND io insieme a Davide Longo e Lorenzo Doneda abbiamo raccolto dal tavolo tutti i requisiti che sono emersi e abbiamo cercato di formalizzarli anche da un punto di vista formale con la specifica dell'OpenAPI quindi a questo punto per i più tecnici penso voglio dare un metodo per poter continuare a interagire con il partimento e con il gruppo di lavoro per poter migliorarle per poi aiutarvi anche alla correzione probabilmente di alcuni errori che ci saranno lo strumento che abbiamo scelto come gruppo di lavoro è il GitHub che penso guardando sì si 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 questo strumento è uno strumento che abbiamo utilizzato per raccogliere i i sorgenti delle specifiche OpenAPI è uno strumento che abbiamo utilizzato per definire una linea guida quindi una documentazione e lo utilizzeremo anche per comunicare come vedete sullo schermo dal link del GitHub che è stato fornito nel nel bando c'è una prima parte c'è un ritmi dove vengono descritte le API questo ritmi come organizzato c'è una prima parte dove viene riportato in maniera sintetica il bando quindi l'insieme la classificazione dell'API come ci ha ben raccontato Fabrizio e poi anche come sono divise le API in metodi al suo interno scorrendo questa prima parte dove ci si può fare un'idea un overview dell'API si ha anche la parte di finanziamento per quel che riguarda i vincoli sul finanziamento scorrendo sempre verso il basso abbiamo le linee guida degli service vengono messi in evidenza i punti principali per aiutare un po' a muoversi all'interno del sorgente abbiamo seguito un metodo nella definizione di questa documentazione abbiamo sempre messo all'inizio un link alla specifica Open API YAML e questa è diciamo la parte di sorgente di codifica della specifica successivamente abbiamo indicato anche i diversi metodi all'interno della API perché un'API è composta da più metodi per esempio l'API IFS01 offerta formativa è composta da due metodi che si chiamano Educational Offering List ossia la lista del manifesto di offerta formativa da parte di un istituto e poi da questa lista si può accedere al dettaglio col secondo metodo chiamato Educational Offering Detail Per ogni metodo viene anche indicato la request e la response in un linguaggio pseudocodificato che cosa sono? Sono quelle JSON o pseudo JSON che ha mostrato prima Fabrizio e da dove sono emerse queste JSON sono emerse da 4 mesi di discussione del tavolo di lavoro quindi abbiamo cercato ogni volta di volta in volta di formalizzare quello che emergeva da un tavolo abbastanza grande poi i vari requisiti quindi andando all'interno per esempio della request della lista abbiamo proprio quello che mostrava prima Fabrizio attraverso le slide attraverso il link delle slide dove abbiamo messo queste request e response per chi volesse navigare il GitLab le abbiamo messe sotto la cartella documentazione c'è una cartella analisi e poi c'è una cartella io schema che sta per input output schema sono gli schemi di input output dell'API dove abbiamo request e response in sequenza secondo la nomenclatura dell'API successivamente alla request e la response che però non sono codice non è una formalizzazione codificabile è soltanto un modo di poter comunicare il lavoro che è stato fatto attraverso il tavolo di lavoro e anche comunicare in una maniera un pochino più semplice rispetto alla specifica open API che poi andremo a vedere successivamente abbiamo cercato di indicare le parti un pochino più importanti dell'API le cose a cui bisogna stare attenti ed è scritto con la parola chiave importante un'altra informazione molto utile che è il caso d'uso ossia tutte queste API il fruitore può essere un erogatore può erogare questi dati per un qualsiasi fruitore che poi dipenderà anche sulla base dell'analisi dei rischi del quale ha parlato Matteo e ogni fruitore noi non sappiamo ora a chi poteva essere utile questi potevano essere utili questi dati potenzialmente però conoscendo il dominio attraverso l'esperienza di tutto il gruppo di lavoro abbiamo definito dei casi di uso di ispirazione questi casi di uso di ispirazione sono quelli che poi hanno ha elencato Fabrizio e anche Matteo per quel che riguarda per esempio l'interazione con Universitaly quindi l'alimentazione di un portale Universitaly in ottica di manifesto di un'offerta formativa da parte degli istituti l'alimentazione di Anis per esempio o piuttosto che la generazione di prove di evidence per l'interazione in Europa con il protocollo SDG ecco quindi abbiamo indicato questi casi d'uso ma sono casi d'uso che hanno guidato alla implementazione delle BI però nessuno vieta che poi queste BI possano essere utilizzate da altri sempre con l'autorizzazione delle loro attori ecco questa diciamo è l'organizzazione della documentazione vediamo velocemente come sono organizzate abbiamo i sorgenti e quindi le OpenAPI quindi il codice formalizzato dal quale si può ripartire poi per costruire sia gli skeleton che le stab quindi client e server la documentazione riassume un pochino dal management fino al design abbiamo cercato di raccoglierla ma ho tutta qui nel repository per dare un'idea a 360 gradi di tutto il lavoro se poi si cerca di trovare ulteriori informazioni io consiglio di partire dalle linee guida dal readme e poi di navigare dall'interno ci sono le release note dove noi diciamo c'è la storia del progetto ogni volta che facciamo un aggiornamento riportiamo tutti gli aggiornamenti anche se poi può essere anche per chi è più esperto può navigare la storia del repository perché è un repository di versionamento dei sorgenti e quindi capire un po' come è evoluto la definizione della specifica ritornando alle linee guida ho lasciato per ultimo la visualizzazione della specifica open API prendo l'offerta formativa come per esempio ecco qui abbiamo la offerta formativa l'API dell'offerta formativa con i due metodi che sono i metodi di di generazione di una lista di ottenimento di una lista di ottenimento dei dettagli della singola offerta formativa da questo sorgente può essere visualizzato con uno strumento chiamato Swogger lo Swogger Editor si trova comunque un link all'interno delle linee guida a questo strumento di visualizzazione con un copia e incolla del codice sullo Swogger ecco possiamo visualizzare l'offerta formativa dove abbiamo i due metodi l'API di offerta formativa offering list e offering detail all'interno dell'open API poi della specifica possiamo andare a visualizzare anche lo schema di request in questo caso verrà passato stiamo cercando il dettaglio di un'offerta formativa quindi di un corso di studi passiamo al codice del corso di studi ottenuto dall'elenco precedente e poi possiamo andare a visualizzare la risposta che è rappresentata da un insieme di dati riguardo al corso di studi e tutti gli insegnamenti inclusi nel corso di studi sempre in ottica di manifesto e quindi di informativa verso lo studente e non in ottica di programmazione di studi finisco dicendo che per interagire con noi con il DTD e tutto il gruppo di lavoro al momento si possono si può andare sulla tab delle issue e qui aprire una o una issue e quindi ci inviate tutto quello che avete da dirci per miglioramenti o correzioni che verrà poi riaffrontato da tutto il tavolo di lavoro una volta raccolta una lista di issue e oppure potete far delle proposte direttamente modificando il codice con delle pull request per chi è più esperto può modificare direttamente la specifica e proporla e poi noi la traduciamo un po' a tutto il lavoro per essere cambiata ecco questo diciamo spero di essere stato completo nella metodologia un po' di lettura della documentazione e di interazione con il gruppo di lavoro grazie Sì sì non state pure che facciamo una facciamo una pausa comincia ad arrivare qualche domanda sulla chat io direi di rispondere adesso le raccogliamo e risponderemo poi alla fine degli interventi adesso da programma è prevista una pausa quindi vi liberiamo per qualche minuto ci rivediamo alle 12.30 così abbiamo tempo di andare a prendere un caffè perché chi è qui con noi insomma chi è da remoto si organizzerà come può ricominceremo con l'intervento di Fabrizio Salvatore che saluto dovrebbe essere collegato da remoto e quindi appena ritorniamo passerò a lui la parola grazie a più tardi grazie 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 sto parlando non so se mi senti perfetto grazie 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 a tutti. 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 quali sono le tipologie di corsi coinvolte e in particolare se l'iniziativa deve coprire ogni tipo di corso post laurea, dottorato di ricerca, residuare studenti del coordinamento che hanno ancora una carriera attiva. Allora, faccio una premessa, quello che abbiamo visto quest'oggi è da un lato un esempio virtuoso di definizione tecnica avanzata dei servizi, perché accanto al bando abbiamo visto che c'è documentazione tecnica di dettaglio, siamo a buon punto, abbiamo la deadline di dicembre, in realtà c'è ancora molto lavoro da fare, cioè tra la definizione descrittiva dei servizi e le sequelle che compone la query da scrivere c'è ancora un po' di lavoro. Allora, il prossimo passo che dovremo fare sarà quello di metterci accanto a chi si occupa di gestire i sistemi, sicuramente rispetto ad altri comparti abbiamo il vantaggio di avere un gestore del gran parte degli Atenei, quindi Ceneca, che ha sott'occhio una certa varietà di situazioni e quindi è in condizione di dire se trovo una soluzione la trovo per 60 Atenei, avendo cognizione di quali possono essere le varietà. Può essere opportuno quindi sedersi intorno a un tavolo per provare a scrivere quelle interrogazioni. Allora, la domanda che posta, cioè quali sono le tipologie di corsi, ha due sfaccettature. Da un lato, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi nel gruppo di lavoro, essendo un'API un'API PDND, pensata per Anis, sicuramente risponde ad Anis, tuttavia può essere pensata anche per rispondere in generale a richieste che riguardano l'offerta formativa, quindi ho i titoli conseguiti. Allora, ha senso che l'Ateneo esponga la varietà complessiva, dopodiché potrebbero essere, potrebbero essere un sotto insieme a quello che viene preso in considerazione nello specifico per l'alimentazione di Anis. Bisogna in realtà entrare nel merito e provare a scrivere queste query, avendo in mente la varietà dei corsi che ci sono, quindi sicuramente rispetto alle tipologie indicate, la parte dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, master, è da ricomprendere. La parte relativa al vecchio ordinamento è una parte che potremmo considerare residuale nella misura in cui sono probabilmente pochi gli studenti che ancora sono del vecchio ordinamento e magari devono solo discutere le tesi di laurea, però potrebbe capitare che potrebbero arrivare adesso a conseguire il titolo, quindi entrano nella finestra di pubblicazione dei titoli conseguiti negli ultimi dieci anni. Ora, una domanda apparentemente banale, ovvero il catalogo dei corsi con codice di iscrizione, in realtà, come sappiamo tutti, a una risposta che non è così semplice da dare, perché sappiamo che l'individuazione degli attributi di ciascun corso, cito il codicione di Anse, il codice identificativo, ha dietro una sola complessità alla quale i colleghi di Cineca nel dipartimento stanno lavorando. Quindi dovremmo sicuramente garantire una copertura anche rispetto ai corsi del vecchio ordinamento, che sono comunque censiti in Anse, però dobbiamo capire adesso, nel momento in cui andiamo a scrivere le risposte a quei servizi, come implementarlo, quindi il lavoro più di dettaglio deve ancora essere portato avanti. Prendo un tema emerso poco fa rispetto all'analisi del rischio, allora, è ovvio che non avrebbe senso, visto il lavoro che abbiamo fatto fino adesso, abbandonare i singoli enti a farsi improprio le valutazioni del rischio rispetto all'accesso ai servizi di PDND. Peraltro ci sono contesti di raggruppamento, un CRUI piuttosto che il CODAO, dove il mondo dei DPO si confronta per trovare una soluzione di sistema, quindi come abbiamo fatto fino adesso procederemo anche in questo senso, perché non avrebbe senso trovare delle soluzioni di forme o non raccogliere a fattore comune. Apro chiudo parentesi, un esempio che non c'entra con il tema di oggi. Sapete tutti che c'è il provvedimento del garante riferito ai metadati per la posta elettronica, stiamo lavorando anche su questo tema, ci sarà poi domani un incontro con i DPO per cercare di condividere quantomeno un parere comune. Stiamo cercando in generale di fare sistema anche su questo, quindi da quel punto di vista direi che possiamo tranquillizzare sul fatto che non li lasceremo sicuramente da soli. Un'altra domanda... Leggo la domanda, allora c'è una prima domanda che chiede se Cinec fornisce anche un gateway per la fruizione delle API dichiarate da altri enti, ad esempio l'Agenzia dell'Entrata per il Controllo del Codice Fiscale o le anagrafe comuni per l'esistenza in vita, come accennava prima Fabrizio. In realtà non è l'API manager Cinec che deve esporre quell'API perché è la PDND stessa che lo fa, quindi di conseguenza è la PDND che fa da gateway se vogliamo in questo caso. Ovviamente i servizi Cinec potrebbero essere interessati come i servizi degli altatenei a leggere tramite la PDND quell'API per avere questo tipo di informazione, quindi in questo caso l'API manager Cineca viene usato solamente per esportare dal basso verso la PDND tutto quello che è di competenza dell'Ateneo AFAM stessa, non per usare da gateway anche per il resto. L'altra domanda è sempre per Cineca, pensate che lo stato di iscrizione on-off pausa di cui si parlava prima debba o possa far riferimento a una logica personalizzata per ogni Ateneo che gestisce? Mi piacerebbe sperare di no e anche se conosco le realtà variegate degli Atenei quindi dobbiamo capirlo, probabilmente da un certo punto di vista mi piacerebbe portare logiche più comuni possibili perché più le logiche sono comuni più possono essere confrontate soprattutto in ambiti come questo, so che ogni Ateneo ha delle piccole sfaccettature dove magari la logica mi viene in mente più della pausa potrebbe essere con piccole sfaccettature che dipendono da ogni Ateneo, magari il mettere in pausa potrebbe essere diverso da un Ateneo all'altro in base a quali servizi vado a mettere in pausa legato a quali eventi, quindi anche a malincuori mi vengo a dire che probabilmente dovremmo gestirlo. Un'altra domanda è sul costo dell'API manager, dell'implementazione dell'API per gli Ateneo S3, sono in questo momento sono in corso delle valutazioni, io rappresento più la parte tecnica della parte commerciale quindi mi avvalgo della facoltà di non rispondere, però potete fare riferimento alla parte più diciamo di client manager di ogni Ateneo, adesso non ricordo, non vedo chi che ha fatto la domanda per avere ovviamente questo tipo di informazione, è chiaro che a seconda del servizio che andrò ad attivare potrebbe esserci qualcosa di differente, però non vi porto questo tipo di informazione. Vediamo se c'è qualcos'altro, vedo ancora Cineca. Sì, se posso aggiungermi in questo punto, chiaramente sarà definito comunque questa informazione, non è disponibile adesso, ma sarà definita l'informazione rispetto a quello che potrà essere il costo per gli Atenei che sono in Cineca per soffrire di questo servizio, poi questo si aggancia a un'altra domanda che era arrivata rispetto al fatto se fosse possibile utilizzare i fondi della misura 1.3.1 eventualmente per far sviluppare ad altri le API, certamente sì, uno potrebbe anche svilupparle autonomamente, farle in casa, quindi può farle fare un provider esterno, questo provider può essere Cineca, ma potrebbe essere un provider diverso. Io sottolineo come la misura per le università statali e le AFAM che hanno avuto accesso a questa misura, la misura sia sicuramente adeguata per arrivare all'assetto minimo che garantisce poi il finanziamento, che vorrebbe dire in funzione della dimensione di Ateneo mettere a disposizione un certo numero di API, dopodiché uno a quel punto fa un ragionamento e dire nel momento in cui, cosa che ritengo probabile rimarranno nelle casse dell'Ateneo ultime ancora risorse disponibili, si potrebbe ampliare il pacchetto di servizi offerti e su questo che io all'inizio auspicavo il fatto che ci possa essere in qualche modo una forma di coordinamento in modo tale che mettiamo le risorse in una direzione comune, che potrebbe essere quella di sviluppare delle app, e qui faccio solo un esempio per dare un esempio, non perché abbiamo preso una decisione, sviluppare una app che permetta di utilizzare l'accesso al PDND per rendere disponibili singoli Ateneo e informazioni che nella PDND arrivano da altre amministrazioni, come già citati, le anagrafie dei comuni o altro, piuttosto che realizzare ulteriori API che possono permettere di accedere ad altre informazioni degli Ateneo mettendole sul PDND, perché non ci sono solo le informazioni degli studenti, ci potrebbero essere informazioni relativi alle figure professionali create, ai percorsi formativi, alla trasparenza come avevo già accennato, alla documentazione da rendere disponibile all'esterno, su questo è in corso un dibattito a livello CRUI con i rettori e i loro delegati per cercare di condividere delle linee di indirizzo sulle quali prova ad andare tutti insieme, perché poi è chiaro che se ciascuno fa una cosa diversa, sì abbiamo un risultato con un certo impatto, ma se facciamo tutti la stessa cosa, evidentemente per tutti gli stakeholder, ma anche per noi stessi che dobbiamo interagire e scambiarci dei dati, certamente l'efficacia di questa misura sarebbe moltiplicata per un fattore significativo. Io non volevo interrompere questo circolo virtuoso di domande e risposte che era partito, però penso che ci sia ancora qualcos'altro. Ti ringrazio per la risposta. Ok, grazie. Forse l'ultima che rimane, almeno di quelle che vedo io, l'ultima. Si dice, l'erogatore dell'API università non conosce, se non ho capito male, chi cittadino o ente richiede il servizio, ma l'eloga delega identificazione e autorizzazione alla piattaforma tramite il voucher di cui parlavamo prima. Come possono essere rilevati o segnalati abusi di utilizzo? Se quanto ho scritto e dato, ok. Allora, non so qua chi vuole rispondere, qua non è tanto Cineca. Nel senso che, allora, l'erogatore sa chi è l'ente che lo contatta, perché nel voucher c'è scritto chi è l'ente che lo contatta, PDND ha verificato che ci fosse un accordo di fruizione attivo e non sospeso, eccetera. Quindi l'abuso verrebbe in questo caso dall'interno di un ente che si configura come un qualunque altro abuso che possa succedere fra enti che hanno degli accordi di interoperabilità. Quindi sì, non c'è un accesso da parte di terzi non autorizzati, si parla sempre di soggetti che sono registrati sulle piattaforme PDND e solo quel soggetto è autorizzato ad entrare o comunque si sa qual è il soggetto autorizzato. Quindi da questo punto di vista c'è una cornice molto ben definita di accesso. Se abbiamo capito bene la domanda. Sì direi che è quello, oltretutto la logica del voucher sposta proprio l'onere del capire se chi mi sta chiamando aveva diritto di farlo su un ente terzo, quindi a livello di API manager, a livello di verticale su cui vengono implementate le API, di fatto non ho più l'onere di dover censire chi mi può chiamare, perché chiaramente potrebbe cambiare da un giorno all'altro con l'aggiunta autonoma di fritori, quindi da questo punto di vista direi massimo la trasparenza. Ecco, tra l'altro dicevamo semplificare tutto il discorso di evitare mutua autenticazione proprio anche per evitare di dover gestire, immaginate un ministero dell'interno che deve gestire 8.000 comuni che lo contattano, dovrebbe gestire 8.000 certificati di 8.000 diversi comuni che scadono, vengono annullati, possono avere mille casistiche, in questo caso PDND disintermedia tutta questa parte, quindi semplifica la cosa. Assomiglia a quello che è, lo schema è quello che si usa in Out2 per l'autenticazione delle persone, quindi qui non sono persone che si autenticano a server, ma sono server che si autenticano a server, ma il meccanismo è analogo. Bene, non mi sembra che ci sia altro da quelli collegati, non so se qui qualcuno vuole fare una domanda, tu Giovanni Barone, prima. Più che una domanda, diciamo, volevo… prima cosa c'è, una domanda c'è, ma per chi è collegato, se c'è qualcuno che ancora non ha sottoscritto l'accordo, per quale motivo, se vuole avere chiarimenti adesso è il momento, perché se no poi dopo lo scrivete dopo e poi bisogna andare a recuperare la vostra email perché avete la possibilità in questo momento e anche per questo abbiamo creato questo evento tecnico, ma tecnico a 360 gradi, non solo tecnico, tecnologico, ma tecnico anche dal punto di vista amministrativo, cioè Fabrizio l'ha fatto vedere e l'abbiamo fatto anche noi, è una cosa banalissima, banalissima e anche entra all'interno della PDND. Poi Fabrizio ci ha fatto vedere una cosa brutta che è il fatto che vediamo dal 2012, lavoriamo su queste cose, ma le facce sono sempre le stesse, quindi siamo invecchiati su queste cose, però abbiamo avuto la soddisfazione in un certo qual modo di vedere che la traccia è stata seguita, abbiamo seguito e continuiamo a perseverare in questo ambito e vi posso garantire che tutto quello che è stato presentato è stato discusso riga per riga, quindi è stato un grosso lavoro sinergico fatto che non è non banale e che sicuramente non finisce qua, è solamente il punto d'inizio per una nuova visione totale dell'Ateneo e degli Atenei e del sistema complessivo, perché se considerate quello che è stato detto oggi, forse non è stato percepito in maniera chiarissima, il fatto di eliminare tutta la parte, la possibilità di eliminare tutta la parte dell'anagrafica all'interno dei nostri Atenei, dei nostri basi dati e tutte quelle che sono le informazioni non prettamente legate alla nostra missione, che è quella del diploma, della laurea, del percorso di istituto, questi sono i dati che noi gestiamo, oggi invece gestiamo una marea di dati che non sono nella nostra missione, questa è l'occasione di utilizzare e ne abbiamo parlato anche con Agit, tant'è vero che velo siete ritrovati nel piano triennale, cioè non è un caso che si è trovato, ma il fatto che cerchiamo questo gruppo di lavoro che si è creato, perché io vi ricordo, e l'abbiamo già detto l'altra volta, che l'8 agosto abbiamo iniziato, siamo venuti, c'è un caldo incredibile, il professor Cupertino, Giorga, siamo andati al Mur e abbiamo iniziato questo lavoro e oggi ci troviamo non a discutere di che cosa si deve fare ancora, ma di quello che è stato fatto e io spero che ci siano delle domande anche di interrogazione, perché avete fatto così, perché sarebbe meglio e quindi la continuare in questa maniera agile, che oggi fa molto di moda dirlo, ma così è, condividere il sistema dei requisiti con tutto quello che è il comparto che faceva l'organizzazione omogenea, che noi in sistema, sempre noi, quando andammo a Agit, mi ricordo, quel periodo faceva freddo, mi ricordo, era il 2013 mi pare, che andammo ad Agit a fare questo raggruppamento omogeneo, perché proprio per noi il mondo dell'università è specifico, peculiare e quindi va trattato in questa maniera con chi gestisce, quindi il CODAO, la CROI, cioè persone che conoscono bene l'ambiente, perché altrimenti ci troviamo in situazioni che andiamo a recepire e che poi portano risultati non come questi in così proprio tempi. Grazie. Sì, Giovanni, ok arriviamo, no? Dico a ulteriore integrazione della questione che chi non ha ancora aderito chiaramente è invitato a farlo, io lo faccio io, penso che il Dipartimento sia pienamente disponibile in qualche modo a sossupportare anche coloro i quali non abbiano ancora fatto domande. Per la cronaca, di Atenei statali ne mancano tre, che sono comunque monitorati singolarmente, i rettori, i referenti, quindi stanno procedendo, comunque dovremmo arrivare al 100%, di AFAM credo ne manca ancora una ventina così mal contati, però se vuoi prendere la parola, prego. Sì, no, volevo dare una notizia, innanzitutto gli Atenei mancanti, adesso mancano due, una notizia proprio di real time, quindi abbiamo aggiunto un ulteriore Ateneo, quello di Catania. E poi un'informazione, un po' di servizio che il Dipartimento sta lavorando per estendere i termini per aderire all'avviso, quindi non è ancora concluso l'iter, però stiamo lavorando proprio per cercare di dare veramente a tutti gli istituti che mancano l'opportunità di non perdere queste importanti opportunità e quindi a breve dovremmo avere la conferma ufficiale dell'estensione dei termini per aderire all'avviso 1.3.1. Quindi questo mi sembrava il giusto momento per dare questa informazione. Sì, grazie. Sono arrivato a un paio di domande sulla chat, uno che riguardava la questione dell'adesione e dell'utilizzo di Cineca eventualmente per la produzione delle API, chiaramente non è obbligatorio, questo l'abbiamo già detto. Comunque Cineca è un possibile fornitore di un servizio che sia per le università che per le AFAM è una possibilità, ma non c'è nessuna forma di obbligo. Anche per le università che già utilizzano Cineca, facciamo il caso più ampio, se nel momento in cui l'università avesse voglia di sviluppare internamente perché ne ha capacità, lo può fare anche internamente, piuttosto che con un operatore terzo rispetto a Cineca. Questo solo per massima trasparenza dell'informazione. Ok, ce n'è una per Cineca. Su quale coda del Customer Portal dobbiamo scrivere per il supporto sull'API Manager. A memoria non la ricordo, ma segno il nome e ve la faccio avere. Ho visto chi ha fatto la domanda. Ce n'è una forse. Quindi cosa deve fare RTD per completare l'onboarding e che dati servono al momento dell'iscrizione? Sì, se volete giusto dare un cenno. Per l'onboarding non è tanto da RTD quanto il legale rappresentante dell'ente che deve scaricare l'accordo di adesione, compilarlo con i dati dell'ente e aderire formalmente. Questo è un procedimento completamente amministrativo, cioè non riguarda i tecnici. Poi ci sono tutti dei ruoli all'interno da andare ad assegnare che invece possono essere i ruoli amministrativi o tecnici a seconda della cosa. Però l'adesione, prego se vuole... Adesso io farò il coming out in quanto legale rappresentante di un ente, non l'ho fatto io, però c'è qualcuno che va, c'è una pagina da compilare, c'è qualcuno che deve compilare questa pagina, si scarica un PDF e si fa firmare alle gare rappresentante, un'operazione davvero che si va prima a farla piuttosto che a illustrarla. L'onboarding è davvero una questione amministrativa che definirei semplice, senza timore di smentita, insomma si tratta semplicemente di fare una procedura e un attimo. Dopodiché c'è tutta una procedura, i tempi non sono, c'è da lavorare, ma non sono serratissimi, nel senso che poi fatto l'onboarding bisogna in qualche modo attendere la comunicazione del finanziamento e poi ci sono dei tempi che sono spiegati nel bando con i quali si può contrattualizzare il fornitore di un servizio e poi sviluppare queste api. Stiamo parlando sempre di mesi, per cui non è una cosa per cui che cade, fatto l'onboarding cade addosso all'entesi, all'afamo, all'università, qualcosa da fare esattamente il giorno dopo, per cui io invito tutti a partire quanto prima, perché prima si parte, chiaramente più tempo ci sarà poi anche per fare tutto il resto. Non mi sembra che ci sia altro sul tavolo e quindi se non ci sono domande anche dai presenti, mi rimane che ringraziare davvero tutti per aver partecipato, ci sono ancora un numero significativo, 161 che hanno resistito fino alla fine, quindi abbiamo un rendimento vicino all'80%, che è una cosa buona, ma a parte la battuta penso che sia stata tutta una giornata molto interessante. Ribadisco che la registrazione la renderemo pubblicamente disponibile, quindi sarà possibile andare a rivedere, oppure passarla ai colleghi, le slide quando i relatori ce le trasmetteranno, le metteremo a disposizione di coloro i quali si sono registrati, se qualcuno è entrato nella chat avendo ricevuto il link da qualche collega, poi chiederà al collega di avere l'accesso anche alle slide che saranno trasmesse, chiaramente a quelli di cui abbiamo riferimenti sono quelli che sono registrati per il meeting di oggi. Quindi di nuovo grazie a tutti e buona giornata e a presto.